Oggi vorrei parlarvi del libro di Michela Marzano. Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa, Edizioni Rizzoli. Volendo utilizzare un aggettivo per definire il libro, sicuramente potremmo definirlo denso. Denso per il numero degli interrogativi che pone, denso per gli approfondimenti che prospetta ed denso anche per gli spunti di riflessione che inevitabilmente impone. La storia è quella di Anna. Anna è una giornalista, lavora in radio e insegna in un master di giornalismo universitario. Attraverso i suoi studenti cerca di ripercorrere lo scandalo del MeToo. Scandalo che ha portato alla ribalta tutti i favori sessuali imposti alle giovani attrici per poter fare carriera nel mondo dello star system. Ma il punto focale che la Marzano intende approfondire è quello legato al concetto di libertà e di consenso. Le donne spesso credono di essere libere o hanno un'idea della libertà che in fondo è forse poco rispondente a quella che è la realtà. Come hanno difficoltà ad esprimere un consenso? Ed è anche molto difficile riuscire a comunicare il reale assenso o il rifiuto per situazioni che possono riguardare sicuramente la relazione uomo-donna. Un libro che risulta interessante, a volte anche urticante perché è incalzante, pone il lettore nella condizione di sentirsi tirato in primo piano. È come se attraverso la storia la Marzano chiedesse di volta in volta di dare una risposta. E quindi questo risulta essere impegnativo perché le risposte non sono immediate, ma inevitabilmente, come dicevamo all'inizio, impongono delle riflessioni molto più articolate. Il corpo delle donne quindi diventa il territorio, lo spazio geografico che rappresenta la memoria di tutti quei consensi e di quelli apparenti libertà o di quello che si è considerato libertà nel corso di ogni esistenza femminile. Un libro quindi sicuramente interessante, con lo stile tipico della Marzano, che è quello dell'approfondimento, della ricerca chirurgica, di quelle che possono essere le verità contenute nelle risposte. Quindi consigliamo il libro di Michela Marzano. Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa. Lezioni edizioni Rizzoli. Alla prossima!